Anzi, buon pomeriggio. Qui a Novara oggi abbiamo una bella novità, hanno portato il mare, Nicolo. Che vuoi dire? Anche le barche. Ah, ok. Capito adesso. Bene, ragazzi, oggi è un pomeriggio che è molto sentito, perché la fama del professor Sversellati è una fama internazionale. E' un grande piacere, lo introduco, perché diciamo che uno del, forse il principale erede della radiologia toracica italiana, che ha avuto dei nomi illustri, tra cui la mia scuola, in particolare il professor Bonomo, e Nicola sicuramente è stato uno dei più promettenti, a suo tempo uno dei giovani più promettenti. Attualmente è un accademico di riferimento per la radiologia toracica, è un esempio per tutti voi giovani, perché davvero ha creato una grande aspettativa a questa sua lezione. Ricordo che il professor Sversellati è stato anche allievo di un altro grande cattedratico, il professor Zompatori, tutto un gruppo di amici che avevano davvero dato le basi per lo sviluppo della radiologia toracica. Quindi con grandissimo piacere introduco il professor Nicola Sversellati e sono sicurissimo che la sua lezione sarà all'altezza delle aspettative che da tutta Italia mi sono giunte per il collegamento di oggi. Prego Nicola. Grazie per la presentazione, grazie per l'invito, considero questa iniziativa davvero importante e formativa, testimonianza del fatto che appunto va avanti da diversi anni e riceve sempre un alto grado di apprezzamento da parte di tutti degli specializzanti, inclusi quelli di Parma. Buon pomeriggio a tutti, dunque io condivido lo schermo, sperando di non fare pasticci, ma non sono ancora così vecchio. Spero, vediamo un po'. Si dovrebbe vedere, giusto? Qualcuno mi fa un segno? Silenzio e senso. Sì professore, si vede più. Bene, allora io vi parlerò delle malattie infiltrative diffuse oggi, ovviamente in 40 minuti avremo tempo solo per dare una infarinatura per cercare un approccio il più pragmatico possibile. Poi essendo un argomento complesso, poi tutti quando studiati bene sono complessi gli argomenti, ci mancherebbe, ma questo notoriamente è molto ambiguo, a partire anche dalla nomenclatura delle malattie e non c'è una ricetta per studiarle in modo univoco, diciamo, appunto più corretta possibile. Ognuno ha un po' la sua. Certo che c'è da applicarsi molto, bisogna studiare, vedere casi, discutere i casi con i clinici, con i patologi, familiarizzare quindi con le immagini e non soltanto, avere proprio un approccio da radiologo clinico, altrimenti i referti di queste malattie diffuse, quindi con tanti reperti, diventano per così dire un po' sterili, molto molto descrittivi e spesso ignorati da chi li legge, quindi dai pneumologi e non soltanto. Allora, questo è un sistema di classificazione piuttosto vecchio, nel 2002, quello del proposto dalla consensus delle pomerite interstiziali idiopatiche, non è stato molto modificato negli anni, ma è abbastanza semplice. Le malattie infiltrative diffuse, intanto nella nomenclatura anche qui c'è della confusione, diffuse interstitial and disease, interstitial and disease, eccetera, eccetera, troverete tanti acronimi, non sono poi solamente interstiziali a dire la verità, anche le malattie che coinvolgono le piccole vie aeree vengono comprese sotto questo termine ombrello, così come anche le patologie che hanno una componente significativa alveolare, quindi interstiziale anche un po' afforviante, però di fatto è rimasto questo termine, quello più apprezzato, più significativo, ed è stato tramandato negli anni e rimane tale. E vedete, questa classificazione distingue quattro gruppi di malattie, malattie infiltrative diffuse ad associazione nota, causa nota, come le malattie autoimmuni o da farmaci, le problematiche interstiziali idiopatiche, che sono un gruppo di patologie molto importanti, perché possono essere idiopatiche non soltanto, quindi la conoscenza di questo gruppo di malattie è fondamentale, malattie granulomatose come la sarcoidosi, e un gruppo, diciamo, misto, dove ci sono anche le malattie piuttosto rare, come malattie cistiche. In realtà è ben più complessa di così, perché le malattie sono tante, ci sono dieci pattern patologici fondamentali, ce ne sono meno all'attack, poi vedremo quali, ma alla fine noi dobbiamo suggerire uno spettro di diagnosi inferenziale il più piccolo possibile, il più narrow possibile, cioè quindi una diagnosi, quando possibile, e succede poche volte, più delle volte invece succede due o tre ipotesi diagnostiche, oppure quando sono di più, sicuramente vuol dire che non abbiamo un'idea precisa, servono ulteriori indagini, inclusi i dati di anatomia patologica. Però non ci sono solo questi pattern, come il ground glass, i reticoli, i noduli, questi pattern hanno delle differenze, cioè ci sono tante varianti all'interno di questi, ci sono anche dei reperti ancillari, ci sono dei segni che indicano una malattia, sono molto specifici e aiutano a orientarsi verso la diagnosi. E nonostante questo, considerando tutti questi pattern, questi segni ancillari e questo, noi dobbiamo corroborare il dato radiologico con quello clinico, perché altrimenti non potremo suggerire una diagnosi differenziale, come dicevo, migliore possibile, quindi con una o due massimo ipotesi diagnostiche, idealmente. Poi c'è anche un discorso di probabilità diagnostica, dipende in che contesto ti trovi, ci sono malattie molto frequenti che assomigliano a malattie rarissime. È chiaro, faccio un esempio, se vi trovate in un caso quiz, dove presumibilmente il caso è challenging, è difficile, voi vedendo una malattia penserete subito a quella più difficile, quella più rara, ma nella pratica clinica invece avviene il contrario. Ma quindi anche un discorso di probabilità, il vostro cervello è molto influenzato da questo e le malattie, ripeto, alla radiologia si assomigliano tanto. In più le stesse malattie dal punto di vista morfologico, perché noi guardiamo la morfologia, possono essere idiopatiche o secondarie ad altre condizioni, come malattie autoimmuni, esposizioni professionali, altri tipi di esposizioni, farmaci, eccetera. Quindi senza questo dato non si arriva a una diagnosi, si arriva solo al massimo a un'interpretazione della morfologia, dell'alterazione morfologica. Mi spiego quanto detto. Allora, questo è un edema polmonare, ma vedete del vetro somerigliato, dei reticoli, asimmetrico, senza informazioni cliniche, io difficilmente posso, diciamo, suggerire l'edema polmonare nelle conclusioni del mio referto. Si sovrappone anche dell'infisema. Nicola, scusa, ma non vediamo l'immagine dell'edema polmonare. Cosa vedete? Abbiamo una diffusa interstitial lung disease, 10 pathological pattern, e così via. Ah, non è andato avanti. Come mai? Non lo so. Aspettate. Arriva l'aiuto da casa. Allora si vede che sono diventato vecchio. Sto sbagliando io. Sto con i vedendo lo schermo, però... Quindi non vedete l'edema polmonare? No. Adesso cosa vedete? Sempre la stessa diapositiva. Mamma mia, che sterone. Interrompo. Rifaccio. Classico. Stacco la spina, riattacco la spina. Ma fai destra tu, no? Andiamo un po'. Ecco, adesso sì. Sì? Sì, adesso sì. Vedi? Ok, bene. Scusate. Prova a scorrere anche l'altra, scusa, così siamo sicuri. Sì. Scorri quella dopo? Sì, perfetto. Ok. Allora, ritorna sull'edema polmonare. Grazie. Misteri del McIntosh. Perfetto, grazie. Grazie. Niente scherzi. Allora, grazie a te. Allora, stavo parlando dell'edema polmonare, no? Questo non è un caso da libero, nel senso con il versamento pleurico, vabbè, qua non vi faccio vedere il cuore, ma non ci sono i set introlubulari spessiti. C'è del vetro smerigliato, che spesso è l'unica manifestazione anche dell'edema, che è proteiforme, quindi una malattia molto frequente, che ha un aspetto ambiguo. Certo che se arriva con una clinica chiara, molto suggestiva, riusciamo a suggerire l'ipotesi diagnostica corretta, ma altrimenti davvero diventa difficile. Quindi una malattia comune che può assomigliare, in questo caso, a un'infezione, o altre malattie specifiche, anche rare. Poi, due pattern che, descrivendoli, alla fine potrebbero sovrapporsi nel referto, vale a dire, io vedo dell'anicambing qui a destra, dell'anicambing meno esteso qui a sinistra, e delle opacità reticolari. Sono tutte e due pattern morfologici di tipo WIP, con alcune differenze, effettivamente, ma lo stesso pattern morfologico può essere idiopatico e cambia il nome, quindi la WIP idiopatica diventa IPF, quindi inizia la confusione. Invece, in questo caso, il paziente ha l'artrite aromatoide e ha un interessamento polmonare grave, WIP, ma secondario all'artrite aromatoide, non idiopatico. Quindi, attenzione, il pattern è diverso da diagnosi finale. Poi, malattie che all'inizio appaiono in un modo, in questo caso noduli, cavitati, e nel tempo si trasformano, quindi residono cisti a forma bizzarra, l'esempio delle malattie da fumo, come gli stiocitosi, malattie che coesistono alle basi in cui ci sono dei reperti di WIP e qua, invece, di fibroelastosi, pleuro, parenchimale agli apici. Quindi, le malattie infiltrative diffuse si assomigliano, possono coesistere e nel tempo addirittura cambiano. Aggiungiamo difficoltà. Quindi, l'HRCT, lo sapete, è la metodica per lo studio di queste malattie, è più curata di qualsiasi altra metodica di imaging, provvede delle immagini, fornisce una panoramica del polmone unica in vivo, che nessun altro strumento è in grado di dare, e neanche l'anatomia patologica, perché ricordiamoci che soffre del problema del campionamento, cioè, vale a dire, studia un piccolo pezzettino del polmone, noi invece lo vediamo tutto. A volte le immagini sono diagnostiche, possiamo fare un'analisi morfologica perfetta, univoca, istospecifica, quindi è possibile fare il diagnosi senza bisogno di avere il dato istologico, in altri casi invece è necessario. Inoltre possiamo dare informazioni circa la proniosi del paziente, capire se quel tipo di malattia è grave, se all'interno della stessa malattia, quel sottotipo, quell'aspetto morfologico indica una proniosi più grave di un'altra, un po' come per il cancro del polmone, ci sono dei noduli che hanno lentissima crescita, altri invece che crescono rapidamente, hanno crescita e proniosi differente, ma sono sempre canchi del polmone, stessa cosa per le fibrosi o altri tipi di malattie infiltrative diffuse, anche la sarcoidosi ha una sua variabilità prognostica di comportamento, quindi non solo descrizione, ma anche interpretazione delle immagini per dare un'ipotesi diagnostica e per dare anche informazioni prognostiche. Poi, noi guardiamo tutto il polmone, ma dobbiamo guardarlo anche, per quanto riusciamo, a livello microscopico, e la nostra microscopia è questa, l'analisi della malattia distribuita, come si distribuisce all'interno di questa struttura, unità morfo funzionale essenziale del polmone, l'ovulo polmonare secondario, misura circa un centimetro di diametro, a forma poligonale o rettangolare, è appunto suddiviso da set interlobulare, quindi tessuto connettivo, ma è importante conoscere le strutture anatomiche che lo compongono, e dove decorrono quindi le vene, alla periferia, ai vasi linfatici, l'arterio e la centro ovulare, quindi distinguono l'impalcatura interstiziale centro ovulare, da quella interlobulare, eccetera, perché capire dove si distribuiscono le malattie, cioè i segni dove li vediamo prevalentemente distribuiti all'interno di questa struttura, ci consente di orientarci meglio per la diagnosi differenziale. Torniamo ai famosi pattern, qui c'è anche variabilità, addirittura una classificazione, vabbè, il reticolare esiste solo così, è il reticolare, stessa cosa per il nodulare, stessa cosa per il cistico, invece per quanto riguarda il mosaico, qualcuno include solo, quindi l'intrapolamento aereo, le aree di ridotta attenuazione da vascolopatia, altri addirittura includono in questo il ground glass, perché produce un aspetto mosaico. Comunque il ground glass potrebbe essere accorpato insieme alle consolidazioni sotto il pattern o classificazione parentimale. Discuterò tutti i pattern, tranne quello a mosaico propriamente detto, quindi dall'intrapolamento aereo. Per discutere questi pattern vi farò vedere dei casi, ovviamente non chiederò a voi la diagnosi, ma cercherò di discutere così, di interpretarli un po' a voce alta. Allora, partiamo col primo caso, che è il caso di una donna di 59 anni, fumatrice, che ha tosse e disnea abbastanza recente, negli ultimi due mesi, e ha un deficit lievemente restrittivo alle prove di funzionalità respiratoria. Allora, le ipotesi diagnostiche potrebbero essere queste, pulmonite interstiziale linfocitaria, pulmonite interstiziale disquamativa, pulmonite di repersessibilità o NSP. Allora, partiamo dalla prima, LAP è una malattia sostanzialmente cistica, predominano le cisti, potrebbe esserci il vetro smarigliato, ma qui vedete che c'è molto vetro smarigliato, forse c'è una cisti, qui, ma proprio una, o forse un fisema, ma io direi che questa potremmo escluderla, se non altro per il contesto clinico che di solito si associa delle malattie autoimmuni. La DAP è una malattia da fumo, è proprio caratterizzata da opacità vetro smarigliato, infatti si vede che è un fumatore anche perché c'è del nefisema, ci possono essere anche addirittura delle piccole cisti. La pulmonite di repersessibilità può manifestarsi con vetro smarigliato, ma per lo più ci sono anche noduli, per lo meno una forma non fibrotica, ci possono essere cisti, ma non è mai così periferica, essendo una pulmonite a esterologia, diciamo, inalatoria, quindi inalazione da cellula immediata e ipersensibilità ritardata, di antigeni che inaliamo, è broncocentrica, non periferica. Interstiziopatia fibrotica, io non vedo anicambi, non vedo bronchiettesi della trazione, quindi la scuderei. L'ipotesi più probabile era questa, ed è anche l'ipotesi corretta. Quindi qua abbiamo del vetro smarigliato. Perché vetro smarigliato nella DAP? Perché nel fumatore, in quelli che sviluppano questo tipo di pulmonite interstiziale, c'è questo accumulo di questi macrofagi, vedete, all'interno degli alveoli pigmentati, che riempiono parzialmente gli alveoli. Cosa vuol dire? Che un po' di aria ci rimane. L'incompleto riempimento degli alveoli determina quindi un'apparenza vetro smarigliato all'ATTAC. Questo è il meccanismo del vetro smarigliato, che definiamo in questo modo. Un'opacificazione che ci consente comunque di visualizzare le strutture sottostanti come il bronco, vedete qui, e i vasi. A differenza invece della consolidazione, che è bianca, in poche parole, non ci consente di vedere le strutture sottostanti come i vasi e i bronchi. Quindi, primo punto, quando vedete queste consolidazioni, questa opacità, non chiamate l'addensamenti, che è generico. Usate il termine corretto, c'è un glossario, e in questo caso la risposta appunto, il termine corretto è consolidazione. Quindi, il ground glass, qual è il meccanismo del ground glass? È un riempimento parziale, diciamo, una riduzione parziale del contenuto d'aria negli alveoli. Quindi ci sono tre modi per ridurre parzialmente il contenuto d'aria negli alveoli. O riempiamo parzialmente l'aria degli alveoli con del materiale, come abbiamo visto prima, dei microfagi pigmentati o dell'acqua, le demalveolare, per esempio, oppure riempiamo, vedete, quindi c'è un interessamento più interstiziale che spinge e riduce, quindi soffoca, forse non è il termine più appropriato, ma lo spiega il meccanismo, l'alveolo e ne riduce il contenuto d'aria parzialmente o una combinazione dei due processi. Quindi qui abbiamo, potremmo avere una DIP ancora, una polmonite interstiziale non specifica, oppure qui, addirittura, su quadro di vostro nome non vedo le immagini, una combinazione come potrebbe essere l'edema polmonare. Quindi questi sono i tre meccanismi. Qualunque cosa che mi riduca il contenuto d'aria parzialmente negli alveoli si manifesta come vetro smerigliato. Quindi può essere patologico, ma non soltanto, anche fisiologico. Quindi se il paziente non respira, gli alveoli non sono distesi, quindi l'aria c'è, ma non tutta negli alveoli e quindi la densità del parenchievo polmonare aumenta. Attenzione a interpretare il vetro smerigliato e la densità perché ci sono anche aspetti tecnici che influenzano, impattano sulla visualizzazione della densità del parenchievo polmonare. La finestra ovviamente è uno di questi, quindi col mouse state attenti, non pensiate che quando guardate i reperti appunto minimi con piccola opacità vetro smerigliato la finestra impatta molto e anche l'algoritmo di ricostruzione. Si dice sempre che le minimum intensity projection siano utili per visualizzare quindi l'aria vetro smerigliato o comunque interpretare il mosaico. È una frase molto accademica da libro io insomma non le uso quasi mai onestamente. Altro caso 77 anni non ha mai fumato al diabete a dispnea acuta insorgenza acuta negli ultimi 24 ore l'RX abbiamo delle consolidazioni bilaterali. All'attac cosa vediamo? Delle consolidazioni nei lobi inferiori nelle pareti bronchiali spessite dei set interlobulari spessiti qui in altro lisci dei vasi forse un po' dilatati in che se il paziente è soppino a c'è tempo che trova ma a volte sono marcatamente dilatati quindi qual è la prima ipotesi diagnostica? polmonite aveva febbre? No le giardie acuto c'era potrebbe essere una polmonite tipica la micoplasma non il covid di set interlobulari di certo non sono reperti dal covid l'edema polmonare assolutamente sì c'è anche questo spessimento della scissura forse l'edema supleurico anche coinvolto non è versamento magari polmonite interstiziale non specifica no perché è una malattia diffusa periferica e qui invece ha chiazze al proteinose avviolare era proprio insomma una domanda a caso quiz ma insomma è caratterizzata da un altro aspetto cosiddetto calesiperi quindi la risposta giusta facile era questa edema polmonare quindi il ground glass è dappertutto si associa a tutte queste malattie ovviamente adesso non le descriviamo tutte però quando guardate un NAC-TAC dove riconoscete come patta predominante il vetro smerigliato considerate l'esordio sacuto subacuto e cronico e guardate la distribuzione delle alterazioni del vetro smerigliato e la presenza di reperti ancillari in particolare nel nostro caso quelli importanti hanno quell'espessimento dei set interlobulari ma i noduli vi orientano verso una diagnosi differenziale col vetro smerigliato le consolidazioni le opacità per i lobulari eccetera quindi insieme a quello dovete considerare tutti gli altri reperti ma è uno dei più difficili da interpretare quindi con i due casi che abbiamo finora analizzato hanno delle differenze nel primo caso il quadro è abbastanza a specifico poteva essere un NSP questa non fibrotica ma la storia come la storia di funo di sigarette la presenza di questa piccola cisti ci orientava queste erano le informazioni più importanti e vedete che tra queste ci sono proprio l'andamento quindi le informazioni cliniche inclusa la storia di abitudine tabagica in quell'altro invece non erano questi reperti che ci orientavano verso la diagnosi ma erano proprio questi set interlobulari spessivi e questo forse ingrandimento dei vasi intralobari quindi di queste vene quindi il patter a vetro smerigliato è molto frequente considerate l'esordio della malattia cronico o acuto attenzione il vetro smerigliato potrebbe anche sottendere fibrosi cercate di escludere la presenza di segni di fibrosi pulmonare che poi vedremo guardate come è distribuito guardate i segni ancillari caso numero 3 diverso 48 anni fumava un po' di anni fa non ricordo quando dispnea tosse fatica e c'è un sospetto di polimiosite dermatomiosite qui la domanda invece è più generica quindi non vi chiedo una diagnosi ma vi riconosce di classificare questo pattern è un ground glass no sono consolidazioni in effetti sì sono bianche queste opacità non lasciano intravedere il parentimo pulmonare sottostante ma sono anche sottili diciamo non sono pacci non sono focali hanno un andamento arciforme e quindi siccome la risposta giusta è reticolare ovviamente non cistico che cos'è il pattern reticolare è un insieme di linee praticamente nel polmone secondo il dizionario più o meno spesse che ricordano quindi una rete all'interno del parentimo pulmonare reticulation va bene in inglese è sinonimo di pattern reticolare e sottende una interstiziopatia queste linee però hanno delle differenze tra loro possono essere regolari lisce nodulari contenere i noduli o irregolari come forma è importantissimo vedere riconoscere quindi quale predomina ma soprattutto ancora più importante come si distribuiscono nel contesto delle strutture del lobulo polmonare secondario che è questo allora in questo caso sono i set interlobulari spessiti quindi dovremmo considerare un gruppo di malattie qui invece abbiamo non l'interstizio ma gli alveoli alla periferia dei lobuli polmonari secondari che sono interessati che hanno margini sfumati e queste corrispondono al pattern che abbiamo appena visto quello perilobulare oppure possiamo avere un spessimento dell'interstizio dentro il lobulo intralobulare che non vuol dire che questo esclude un spessimento dell'interlobulare ma predomina ci sarà anche un po' di spessimento dell'interlobulare ma è importante riconoscere quale predomina quindi interlobulare perilobulare intralobulare interlobulare penso a due diagnosi edema linfringite perilobulare una sola diagnosi polmonite organizzativa interlobulare devo riconoscere segni fibrosi ma quando è dominante è molto fine irregolare e ci sono segni fibrosi come in questo caso brocchiettasi ed attrazione torniamo al pattern perilobulare merita bisogna sempre studiarlo bene familiarizzare con questo perché vi aiuta perché perché se vedete quest'opacità ad arco in alcuni casi formano quasi un atollo se riconoscete dentro il vetro sammerigliato sono alla periferia del parenchima polmonare si associano ad altri reperti di polmonite organizzativa come consolidazioni e opacità bandiformi e vetro sammerigliato che non manca mai un pochettino ma non è predominante allora riconoscete i segni di polmonite organizzativa che è un tipo di risposta del polmone di tipo subacuto a volte anche molto acuto pensate al covid secondario a molte condizioni infezioni radioterapia farmaci malattie autoimmuni soprattutto la polimiosite dermatomiosite che si caratterizza questa opacità per i lubulari ma il suo riconoscimento restringe la diagnosi differenziale quindi è un utilissimo segno corroborativo caso numero 4 cosa succede? impazzisce allora qui parliamo subito di diagnosi senza neanche considerare la clinica è una fibrosi polmonare? no per i motivi che abbiamo detto prima è una polmonità organizzativa? no perché non ci sono consolidazioni non ci sono opacità per il lubulari è un edepa polmonare? sì c'è il versamento pleurico bilaterale i seti interlobulari sono lisci bilaterali sono interlobulari circondano parzialmente non sono non completamente i lobuli polmonari secondari che sono questi un centimetro circa di diametro anche più alle basi soprattutto e c'è anche questo grosso interstizio spessito che va ad avvolgere i bronchi e i vasi è normale vedere questo bronchi al caffeine sarcoidosi può manifestarsi anche con un spessimento dei seti interlobulari ma non è il segno predominante nella maggior parte dei casi quindi quando riconoscete questo pattern predominante con questi seti interlobulari spessiti pensate a due malattie edema e l'infangite carcinomatosa sono diverse tra loro hanno delle differenze che poi vedremo quindi questi seti interlobulari sono differenti dalle opacità per i lubulari vedete ad arco e sono periferiche e si associano a segni polmini di organizzativa come consolidazioni anche il segno della tolla opacità maniformi eccetera eccetera ma sono molto utili ma sono diverse da queste quindi seti interlobulari spessiti possono essere lisci oppure associati a dei noduli e se asimmetrici con dei noduli e riconoscete un nodulo una massa del polmone attenzione pensate all'infangite carcinomatosa altrimenti è più probabile sicuramente quando sono bilaterali l'edema polmonare e vedete questo spessimento dei seti interlobulari dell'interstizio del grosso interstizio che avvolge i bronchi e i vasi e quindi questi sono i segni classici dell'edema polmonare quindi spessimento predominante interlobulare edema l'infangite se non sono queste allora iniziamo a considerare malattie molto rare se invece non è predominante allora pensiamo ad altre malattie che dovremmo interpretare sulla scorta del loro pattern degli altri segni quindi assarcoidosi polmoniti un po' di tutto perché qualche setto interlobulare spessito lo troviamo spesso non predominante ripeto quindi molta differenza riguardo al predominante invece alla presenza di qualche setto spessito e poi guardate la forma chiaramente per la viaggio differenziale caso numero 5 fibrosi polmonare malattia rarissima è un crazy paving qualcuno potrebbe vederci avete smagliato dei reticoli è una sarcoidosi così la diagnosi un po' troppo affrettata soprattutto dal momento che vi sto facendo vedere i lobi polmonari inferiori quando la sarcoidosi invece è una malattia che predomina nei lobi polmonari superiori e sicuramente è caratterizzata principalmente da noduli anche se nella sua forma fibrosante abbiamo altri tipi di attrazione ad ogni modo io vedo questi bronchi periferici guardate qui un po' dilatati regolarmente il polmone sinistro è più piccolo di quello destro c'è simmetria ancora qui dei bronchi regolarmente dilatati non c'è l'anicambi ma è più probabile che in un setting clinico di malattia cronica questa si espressione effettivamente di una fibrosi polmonare quindi è importante riconoscere i segni di fibrosi polmonare in questo caso addirittura la UIP quindi senza le caratteristiche classiche la TAC senza l'anicambi ma molto probabile soprattutto se vediamo questi reperti in un paziente che ha fumato e ha più di 70 anni quindi attenzione che questo spessimento intralobulare che caratterizza la fibrosi a volte è così fine che ci appare come vetro smerigliato si sovrappone al vetro smerigliato ma quando riconoscete i segni fibrosi in un quadro di malattia cronica con dispnea sintomi malattia progressiva è inutile pensare al vetro smerigliato con una malattia infiammatoria una componente infiammatoria acuta è espressione di fibrosi cronica anche il vetro smerigliato associato quindi a queste fine opacità reticolari qui invece abbiamo vetro smerigliato abbiamo dei bronchi dilattati ma non sono bronchiettasi della trazione queste vedete sono i regolari questi bronchi a cavaturacciolo periferici qui invece sono dei bronchi centrali dilattati ma questo è il segno del broncogramma scuro cioè l'aria ovviamente la sua bassa densità che contrasta con l'aumentata densità del parenchimo polmonare infiltrato da non so cosa in questo caso sarà stata una polmonite opportunistica ma che comunque abbiamo si manifesta con vetro smerigliato quindi ripeto e sottolineo i segni di fibrosi anche qui uno guarda sei immagini sei casi diversi e dice oddio ecco la solita malattia infettativa diffuse tutte uguali tutto vetro smerigliato tutti reticoli chi se ne frega dopo oggi non la studio più la radiologia toracica beh intanto se conoscete i segni di fibrosi vi aiuterete sempre perché restringete subito il campo la diagnosi differenziale da 200 malattie a circa 5 o 6 quindi qui i segni di fibrosi sono evidenti c'è il polmone a favodapio anicamin ci sono le bronchiettasia da trazione ci sono i segni di distorsione dell'architettura del parinchima polmonare come una riduzione dei volumi delle scissure che appunto magari sono dislocate qualcuno diceva malfessanti chiamava aspetto festonato si vede una ricostruzione sagittale quando sono stirate verso il basso dalla fibrosi quindi questi sono i segni di fibrosi attenzione a non confonderli con l'enfisema che quando si sovrappone a delle opacità reticolari e potrebbe essere un caso anche dell'edema sembra l'anicambing ricorda l'anicambing ma attenzione cercate di guardare riconoscere la presenza di enfisema nel polmone risparmiato dagli infiltrati e cercate quindi di immaginare se si tratta di enfisema con degli infiltrati o realmente di anicambing caratterizzato da questi spazi cistici su più strati spesso di piccole dimensioni soprattutto nel setting della malattia idiopatica e associato ovviamente a altri segni di fibrosi quindi in queste fibrosi polmonare l'interstizio interessato è questo questo comparto l'intralobulare e pensiamo si vede soprattutto nelle malattie fibrotiche e i due pattern fondamentali delle malattie fibrotiche sono UEP ed NSAP UEP è quasi sempre idiopatico l'NSAP invece è quasi sempre secondario a altre condizioni in particolare con la genopatia anche la sarcoidosi può manifestarsi con fibrosi ma si associa ad altri segni facilmente distinguibili da queste due malattie fibrotiche oppure si può riconoscere malattie non fibrotiche ma non è di solito il reperto predominante e si sovrappone ad altri reperti come il retrosmerigliato o il set interlobulare o consolidazione quindi in conclusione patta reticolare il riconoscimento di queste linee di questi reticoli in relazione alle strutture dell'obulo pulmonare secondario è fondamentale per la diagnosi differenziale è importantissimo riconoscere il predominante spessimento dei set interlobulari perché dovete considerare subito due diagnosi o i segni di fibrosi pulmonare l'identificazione della malattia in fase precoce è importantissima anche se talvolta difficile pensate in un giovane pochi set interlobulari spessiti una terra polmonare dilattata potrebbe essere trascurato dire ma questo spessimento dei set interlobulari non vuol dire niente invece potrebbe essere segno precoce di una malattia molto grave come la vena occlusiva ma qui parliamo di un giovane con dei set interlobulari spessiti non un anziano con storia di scompenso cardiaco stesso discorso per la fibrosi ci sono terapie specifiche e prima fai la diagnosi prima le curi e più sopravvi al paziente magari di pochi anni ma abbiamo un impatto sulla prognosi del paziente quindi la diagnosi impatta poi sulla prognosi sul trattamento caso numero 6 57 anni non ha mai fumato a febbre tosse l'Rx era quasi normale è una bronchiolite da fumo quindi sintomatica e prende il nome di bronchiolite respiratoria associata a interstiziopatia è un'infezione sono metastasi polmonari questo lo scusiamo subito oppure una polmonità di presensibilità infezioni bronchiolari di solito si manifestano subito diciamo con il Trinbad con l'opacità d'albero in fiore questa potrebbe essere una malattia da fumo noduli sfumati e il vetro smarigliato ma il paziente non ha mai fumato rimane quindi la polmonica da ipersensibilità quindi è caratterizzata nella sua forma subacuta da noduli centrologulare sfumati predominanti nei campi polmonari medio e superiori associate spesso al vetro smarigliato il seno è una malattia che coinvolge i viere può anche causare associarsi ad intrappolamento aereo ma non è l'impatter predominante è un reperto appunto ancillare come dicevo prima le malattie si trasformano può avere questo aspetto o quest'altro perché nella sua forma cronica adesso definita fibrotica quando ci sono segni di fibrosi l'aspetto può essere completamente diverso qui è un aspetto tipico della polmonica per sessibilità fibrotica cronica ma può avere un aspetto addirittura identico identico a quello dell'IPF della uvp diopatica quindi malattia molto proteiforme difficile da diagnosticare qui c'è il tree density sign pattern che prima era chiamato head cheese pattern adesso è stato cambiato il nome tree density pattern perché chi ha scritto le nuove linee guida doveva trovare qualcosa di nuovo e quindi ha cambiato il nome anche se era molto bello quello di prima quindi noduli pattern nodulari quando ce ne sono tanti e allora dobbiamo caratterizzarli in base alla consistenza dei noduli dove sono distribuiti nel polmone dove sono distribuiti nell'obulo polmonare secondario quindi profusione caratteristiche distribuzione questi noduli che distribuzione hanno le MIP sono molto utili per i noduli ne riconoscete di più e migliorano la visualizzazione della loro morfologia qui hanno una forma ramificata quindi sono opacità tree in bad e vedete non interessano mai le regioni suppleuriche quindi sono per definizione centrolobulari noduli ramificati centrolobulari quindi questo aspetto è tipico è il tree in bad e quindi penso a un'infezione polmonare una bronchiolite se c'è chiaramente un reperto clinico altrimenti malattie più rare quindi i noduli esistono tanti tipi tante morfologie ma in realtà ce ne sono alcuni che sono molto più frequenti di altri tra questi il tree in bad quindi vale anche il discorso della distribuzione del polmone ma è più importante la distribuzione nell'obulo polmonare secondario raramente i noduli predominano nelle basi noi che non parliamo di metastasi polmonare più delle volte predominano i campi polmonari medio e superiori parlo di malattie infiltrative nodulari abbiamo quindi questi tre tipi di distribuzione centro-obulare perilinfatica e random centro-obulare per definizione non interessa mai le regioni supleuriche incluse quindi le scissure che vedete c'è questa linea nera i noduli risparmiano le scissure quindi per guardare se ci sono noduli supleurici non guardate le regioni sottocostali ma guardate molto le scissure e il più delle volte queste malattie centro-obulari questi noduli centro-obulari riflettono alterazioni bronchiolari difficilmente riflettono una malattia vascolare quindi dell'arteriola centro-obulare che accompagna il bronchiolo guardiamo la loro morfologia adesso questi sono tutti e tre esempi di malattie che si manifestano con noduli centro-obulari diverse tra loro ma hanno una caratteristica che sono tutti centro-obulari e sono sfumati a vetro smerigliato qui sono molto profusi qui poco ci sono anche altri segni vedete anche dei set intra-obulari spessiti che vogliono dire poco e qui invece sono ancora molto simili forse un po' più ramificati qui cos'è che è importante considerare la diange differenziale noduli sfumati centro-obulari dovete pensare a queste due malattie solo che il fumo è un fattore protettivo per la polimitura e la sensibilità quindi sapere l'abitudine conoscere l'abitudine del bacio del paziente è importante per la diange differenziale quindi ripeto noduli centro-obulari sfumati polimitura per sensibilità bronchiolite lo fumo altrimenti se fa il saldatore potete pensare anche a quello caso 7 forse offensivo per voi perché fate diange di un minuto tosse tosse febbre altragie eritema nodoso qui ci sono dei noduli per il linfatico guardate la scissura con dei noduli ma anche i noduli toccano le regioni superiori che è anche qui e sono anche molto centro-obulari quindi hanno una distribuzione per il linfatica che è a chiazze non interessa tutto il polmone in più c'è anche un setto interlobulare qua pieno di noduli vi ricordate prima che vi ho detto che anche i setto interlobulare possono essere interessati perché i noduli seguono la distribuzione dei vasi linfatici quindi effettivamente lungo i setto interlobulare nella parte centro-obulare che accompagna l'artoria al bronchiolo intorno ai vasi e bronchi per questo che hanno questo aspetto questi margini regolari e ovviamente quindi lungo il grosso interstizio quindi lungo le scissure le regioni supleuriche e dovete pensare a queste malattie sarcoidosi 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 perché? perché ci sono le adenopatie quindi non esiste una diagnosi differenziale soprattutto con questo tipo di presentazione clinica queste altre malattie hanno noduli con distribuzione diversa la bronchiolite vi dicevo prima è sudativa tipica dell'infezione sono centro-obulare le metastasi random questa invece non c'entra niente con active tissue disease quindi insieme ai noduli di solito vedete delle adenopatie con delle determinate caratteristiche guardate molto bene le scissure non stupitevi nel riconoscere questi set intervulari spessiti spesso con dei micronoduli lungo questi set quindi con una che hanno un aspetto nodulariforme quindi i noduli supleuriche per i linfatici sono anche supleurici lungo i set intervulari per i broncovasali sono ben definiti e si associano essenzialmente da sarcoidosi o alle pneumocognosi quando invece sono un po' dappertutto distribuiti a caso a random allora usiamo questo termine random quando sono molto piccoli uguali tra loro hanno una diciamo vengono denominati a distribuzione sono miglia riformi i noduli e quindi sono tipici della tubercolosi altrimenti ci sono dimensioni diverse distribuiti a random nel polmone pensate soprattutto alle metastasi quindi questo è uno schema abbastanza valido non so se ho messo la reference no me la sono dimenticata comunque guardate prima se sono centro ovulari quindi se sono risparmiate le scissure e le regioni sottocostali guardate se c'è il Trimbad se c'è il Trimbad pensate all'infezione bronchiale altrimenti pensate ad altri tipi di malattia inflamatoria se invece vedete noduli lungo le scissure o comunque supleurici guardate se sono per i linfatici pensate alla sarcoidosi o alle malattie professionali se invece sono random non pensate alla TB o alle metastasi altrimenti se non sono non ci sono noduli pleurici ma sono davvero centro ovulari possono essere anche molto profusi e possono esserci malattie rare quindi guardate il tipo di nodulo le sue caratteristiche morfologiche la sua attenuazione come si distribuisce nel lobo pulmonare secondario e i reperti associati quello sempre l'algoritmo che vi ho fatto vedere o comunque quello che riuscirete a ricordare mentalmente si ricorda abbastanza bene quello dei noduli è davvero efficace per la diagnosi inferenziale ultimo pattern mi avvio le conclusioni 42 anni forte fumatore tosse dolore toracico RX chiaramente mostrava delle alterazioni ma insomma non c'era si sente di fare diagnosi anche all'RX anche se a volte è possibile una sola diagnosi qui anche senza sapere che è fumatore il paziente noduli cavitati cisti irregolari cosa può essere magari con un primo torace istiocitosi a cellule di Langerhans altre diagnosi sono davvero difficili perché in queste malattie non ci sono le cisti nel linfoma nelle scaposi nelle LAPC ma i noduli non sono così ripeto predominano le cisti non sono irregolari come in morfologia caso numero 9 74 anni fa un'attacca addome proprio fondimento diagnostico conferma la presenza di questo angio miolipoma 74 anni pensate e ci sono le cisti alle basi polmonari guardate sempre le basi polmonari perché oltre ai noduli ci sono anche malattie infiltrative diffuse e diagnosticabili anche all'attacca dell'addome facciamo un attacca del torace e troviamo delle cisti che sono distribuite in tutte le parti del polmone senza risparmiare i seni costofrenici se avessero risparmiato i seni costofrenici avrei potuto pensare a un istiocitosi ma avrei dovuto considerare la sua storia di fumo e la forma di queste cisti parlo di cisti perché c'è una sottile parete non era riconoscibile il core centro ovulare e la diagnosi poi è stata confermata ma attenzione quando riconoscete cisti su tutto il polmone a volte sono associate angiomio-lipoma è facile la diagnosi di infangio-leomio-matosi rara ma non rarissimissima diciamo così è comunque di facile diagnosi in certi contesti in altri no soprattutto nei pazienti giovani che hanno fumato un pochettino perché l'enfisema in effetti può avere le pareti non è vero che per definizione l'enfisema non ha pareti perché se l'interstizio è un po' spessito infiammato può avere un aspetto simile alle cisti l'enfisema centro ovulare ma in questo caso io riconosco il core centro ovulare residuo l'arteriola qui mentre nelle cisti no questa è l'importante differenza la distribuzione delle cisti è fondamentale invece se risparmio i seni costofrenci pensate le ciotose cellule di langers nei fumatori se associata al vetro smarigliato pensate all'LAP o anche alla polimite da ipersensibilità quindi queste sono le malattie più frequenti LAM istiocitosi diagnosi inferenziale con l'enfisema polmonare poi le altre sono rare o rarissime Birtog-Dubè tumore fibro-ostiocitico la DAP quando ne ha molte ma di solito sono davvero poche eccetera quindi le cisti nel polmone quando sono una cisti non è un problema può vedersi anche nei giovani o anche negli anziani in pazienti quindi normali ma quando inizia a essere due o tre tre o quattro richiede una spiegazione non sono come le cisti del fegato e del rene guardate come sono distribuite se risparmiano i seni costo freni guardate la loro forma per la diagnosi inferenziale tra LAM e istiocitosi cellule di langers se non sono queste due parliamo di super rarità ma date un caso da un'altra parte perché magari avete bisogno di una seconda opinion e potrebbero essere davvero malattie rarissime ma in ogni caso abbiamo bisogno di altre informazioni quindi per concludere come orientarvi per l'approccio a queste malattie allo studio delle malattie allora per me bisogna fare due approcci diversi però concomitanti cioè vale a dire studiare i pattern secondo lo schema dei libri classici tradizionali penso a quello di Dal Piazza ma Fessanti quindi Vietro Smarigliato come abbiamo fatto oggi Reticoli eccetera ma studiare anche le malattie individualmente per capire la clinica e tutti i loro reperti associati all'inizio ci sarà gran confusione ma poi a un certo punto riuscirete a fondere le due tipi di informazione clinica e radiologica e avere un approccio molto più solido all'interpretazione di queste malattie bene mi senti Nicola? Sì io ti ringrazio perché hai colto in pieno il il seminario di specializziamoci insieme nel senso che ci hai fatto vedere la semiotica la semiotica che nel tuo caso nello specifico della patologia che è trattato è estremamente complessa io volevo chiederti innanzitutto sino a quanto ci possiamo spingere cioè nel momento in cui tu dovessi dare un consiglio nell'approccio di un referto non ad una persona esperta come te o ce ne sono pochi ma in una situazione di baseline di approccio culturale come tu lo vedi questo referto strutturato e sino a quanto poi ci possiamo spingere a centrare un'ipotesi diagnostica nello stesso tempo formulando delle diagnosi differenziali benissimo allora il referto strutturato nelle malattie infiltrative diffuse è sicuramente utile soprattutto nelle fibrosi perché come abbiamo visto le fibrosi possono essere subito riconosciute e quindi meritano una refertazione seguendo un approccio strutturato nel referto quindi vedere si sono moltifesi attrazione l'anicambing l'enfisema il segno di ipertensione polmonare e delle ipotesi diagnostiche che comunque comprendono una lista abbastanza corta di malattie allora in questo caso secondo me i non esperti riescono a compilare bene questo referto strutturato e sull'interpretazione finale possono anche esprimere un livello di confidenza diagnostica vale a dire se trovano domani il mio specialista che viene assunto nell'ospedale poi clinico di Novaro di Parma un partner con Anicami UEP barra la crocetta UEP senza pensarci se ha dei dubbi attenzione nelle note potrebbe dire la mia prima ipotesi è UEP ma non sono sicuro che quell'anicambing faccio per dire sufficientemente diagnostico eccetera merita la discussione in ambito multidisciplinare e così diciamo il paziente è salvaguardato il pneumologo capisce che gli ha refertato adessare nella zucca discutono il caso tutti insieme collegialmente che è l'approccio unico corretto più corretto e si cresce tutti insieme questo per le fibrosi nelle non fibrotiche diventa un po' difficile trovare uno schema di referto strutturato a meno che non lo facciamo di 6 o 7 pagine dopo ci si perde non diventa poi un approccio realistico e diventa davvero difficile quindi familiarizzare con le malattie classiche soprattutto questo è il consiglio dall'edema polmonare a quelle che hanno un pattern di diagnosi univoca gli stocitose cellule di Langerhans faccio per dire diventa facile poi riconoscere la sarcoidosi con l'aspetto classico eccetera quando si va sulle non classiche inizia la diagnosi differenziale quello che per me che mi sento il consiglio di dare è davvero di telefonare discutere con il clinico di confrontarsi sempre è un consiglio banale sembra retorica ma è l'unico modo per secondo me per crescere un altro consiglio che voglio dare è questo qui nel polmone di un paziente con malattie infiltratele diffusa troverete tanti reperti il vetro smerigliato l'ereticolo intraobulare una bronchiettasia un esito cicatriziale la over descrizione dei reperti spesso non serve assolutamente a niente perché annoia soltanto chi legge e non ha nessuna ricaduta neanche dal punto di vista medico-legale voi dovete riconoscere quello che predomina quello che è utile per far sì che si capisca perché avete suggerito una diagnosi inferenziale o una diagnosi univoca quindi deve essere corto referto sintetico senza una over descrizione che veramente ci rende a volte mi spiace dirlo ridicoli soprattutto in questo contesto hai fatto Cenno mentre parlavi hai lanciato un input radiografia del torace negativa la TAC dimostra questo allora la mia domanda è questa quanto ci possiamo fidare noi in un sospetto clinico di una radiografia del torace negativa questa è un'ottima domanda vale per le infiltrative diffuse e non soltanto RX negativo e sintomi non spiegabili altrimenti ovviamente serve sempre la TAC RX con qualche alterazione sintomi ambigui serve la TAC perché è davvero scarsamente diagnostica in questo contesto quindi di fatto siamo in un'era in cui appena vediamo qualcosa all'RX mi spiace dirlo ma noi che non riconosciamo per la motorace ovviamente versamento pleurico eccetera ma parlo di malattie parenchimali abbastanza diffuse si fa sempre sempre la TAC quindi in teoria su un sospetto clinico di un'interstizio sia qualsiasi essa sia possiamo saltare la radiografia del torace ecco questa è una buona io direi di sì ma lo fanno già perché ti arriva direttamente poi se fa la RX è perché hanno ottenuto una prenotazione di questo esame in modo molto più rapido o perché non pensavano all'interstiziopatia o perché ci vuole un po' di tempo per il clinico per ricalibrarsi e pensare poi alla diagnosi corretta di interstiziopatia perché vede l'RX torace negativo ma ausculta sempre qualcosa allora dopo va avanti quindi anche è una questione proprio di tempistica perché a volte l'RX precede ancora l'ATTAC e non si fa così to cure l'ATTAC subito ci sono tanti motivi perché non c'è un approccio sempre standardizzato organizzato di un paziente senti Nicola io adesso invece ti voglio lanciare un poco sul futuro perché l'abbiamo vissuto nel covid ecco tu lo intravedi un ruolo dell'intelligenza artificiale nell'interstiziopatia allora io non sono un fan dell'intelligenza artificiale soprattutto se devo adesso come te insegnare ai più giovani quindi prima di tutto partiamo dall'intelligenza naturale un pochettino bisogna studiare avere un approccio clinico eccetera quindi è giusto guardarci ma con le determinate cautele e precauzioni sicuramente se devo avere un approccio diciamo un'idea una visione un po' prudente immagino dell'intelligenza artificiale se non altro per motivi anche etici per un training dei radiologi per un confronto sempre come funzione di CAD e quindi avere un supporto che dovrà essere utilizzato nel migliore dei modi possibili ma una sostituzione della lettura dell'occhio umano con l'intelligenza artificiale la vedo difficile se non impossibile vi faccio un esempio del CAD dei noduli nei noduli non serve l'intelligenza artificiale perché adesso i nuovi CAD effettivamente li identificano con un altissimo di livello di sensibilità e accuratezza diagnostica e addirittura beccano anche quelli subsolidi tuttavia nello screen il tumore polmonare non si lascia fare le valutazioni al solo CAD che a volte è anche meglio di certi radiologi anzi molto spesso c'è sempre di fianco l'occhio umano e così sarà per l'intelligenza artificiale che sarà necessaria per l'intelligenza di opatia sicuramente perché il CAD non è sufficiente ma che richiederà sempre un approccio combinato bene io Nicola davvero ti ringrazio e penso che questo applauso che ti facciamo noi da Novara è un applauso che deve giunghi a tutti gli specializzanti italiani anche albanesi che sono collegati e ti ringrazio davvero per quello che fai per la radiologia toracica internazionale essendo tu e lo ripeto ai ragazzi davvero le rete di grandi maestri grazie a tutti quanti sono felice di questo splendido pomeriggio do l'appuntamento grazie